C'è una regione che investe nella bellezza. C'è una regione che investe nella natura. C'è una regione che investe nella storia. C'è una regione che investe nella conoscenza. C'è una regione che investe nel futuro. Con il programma operativo regionale, l'Umbria investe nell'Europa. C'è una regione che investe nel futuro.